sono persone ultra 65 anni con gravi patologie o gravidità le persone che chiamano si rivolgono al numero verde, possono scegliere fra i beni di prima necessità, l'operatore li supporta nella compilazione dell'ordine, salva il tutto e viene inviato poi automaticamente dal software creato ad hoc al punto di vendita e all'associazione che svolgerà il servizio il giorno successivo. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, l'ordine può essere evaso e richiesto anche attraverso il form online sul sito di Unicop Firenze. Diceva in contanti, vero, con il banco Matteo? Va bene, perfetto signora, ho salvato il tutto, non mi intendo la chiamata dei volontari, salve signora, buona giornata a lei, salve. Devo ritirare la spesa di Galli e Gianelli. Benissimo, arriviamo. È un modo per stare accanto alla gente che a causa di questa pandemia sta evidentemente attraversando grosse difficoltà e questo non solo nei centri più abitati, nelle città, ma anche nei paesi più distanti e periferici grazie alla rete del volontariato e ai negozi di Unicop Firenze. Mi piace aiutare la gente che ha bisogno, perché la vita è stata fatta per questo. Dobbiamo aiutarsi tra l'altro, uno tra l'altro. L'abitudine, non c'è più la paura, ma c'è la volontà di capire come poter aiutare qualcun altro. Nell'emergenza vengono fuori le cose non peggiori, ma migliori di noi. A rivederci. A rivederci signora. Grazie. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Grazie mille. Grazie a lei. Oltre alla spesa consegnata a domicilio, è possibile in tutti i supermercati del circuito COP anche fare una donazione attraverso la spesa sospesa. Diamo la possibilità a chi vuole di fare donazioni o in euro oppure in punti alla cassa e la nostra fondazione, la fondazione Il Cuore Si Scioglie, alla fine si impegna a raddoppiare la cifra raccolta. Pensiamo di riuscire a dare una mano a tante persone in un momento dove ce ne è veramente bisogno e presumiamo ce ne sarà veramente bisogno. Grazie. 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 Grazie a tutti